Buonasera a tutti, ma buonasera soprattutto al direttore di Libro Vittorio Feltri. Come va? Tutto bene, grazie, buonasera e un saluto a tutti voi. Senti, Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha proposto questo esecutivo che dovrebbe durare fino a dicembre, fatto di persone neutre, a parte che, fermiamoci, le persone neutre, quelle che non sono né carne né pesce, che persone sono? Cos'è un governo neutro anzitutto? Perché questa roba mi fa un po' girare. No, di solito, io mi baso sull'esperienza, dicevo di solito sono dei coglioni che si prestano a fare questo esercizio platonico, cioè mandare avanti il governo per 5 o 6 mesi allo scopo di fare una legge elettorale che sarà difficile da redigere e dopodiché si tornerà al voto. Ma il povero Mattarella non aveva molte altre possibilità. No, no. Questa è una situazione dopo il voto del... Lo capisco, no, è che io diffido sempre, scusa Vittorio, c'è l'ultimo che mi hanno spacciato come tecnico, come... ma riempito di tasse, lui e tutti i suoi, capisci? Mi preoccupa. Ma succederà così anche adesso, succederà così anche adesso. D'altronde, se non c'è un governo politico perché è impossibile costituire una maggioranza, cos'altro puoi fare? Il povero Mattarella è costretto a giocare con le carte che ha in mano. E le carte che ha in mano sono queste. C'è un Movimento 5 Stelle che ha il 33%, c'è una coalizione di centrodestra che ha il 37%, se non mi sbaglio, e nessuna di queste due fazioni ha la possibilità di esprimere un governo. Per cui cosa c'entra Mattarella? Mattarella gestisce l'esistente, gestisce la realtà. Se poi gli italiani sono talmente fessi che votano 5 stelle e quindi impediscono un'altra maggioranza più solida, ma la colpa non è certo da inquilinare. Io non è che ho simpatia per Mattarella, però in questo caso non capisco cos'altro avrebbe potuto fare se non cercare di mettere in piedi un governo del cavolo, come sto dicendo peraltro da più di un anno, non è che lo dico solamente oggi. E questo governo cosa farà? Cercherà di evitare l'aumento dell'IVA e non sono sicuro che ci riesca, dovrebbe cercare anche di fare un'altra legge elettorale che permetta un voto diverso da quello che è uscito dalle urne il 4 di marzo e null'altro. È evidente che per fare un governo neutrale devi prendere dei tecnici, perché altrimenti se fosse possibile fare un governo politico non saremmo qui nella paralisi, non so se mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato, ma quando si vota secondo te? O non si vota, riescono a fare un accrocchio in mezzo? Non ho capito l'accrocchio, se il 33% degli italiani votano Movimento 5 Stelle senza neanche sapere qual è il programma del Movimento 5 Stelle medesimo, se un'altra metà, un terzo degli italiani vota Lega e però Lega, Berlusconi e Lameloni non riescono a avere la maggioranza, dimmi tu quale altra soluzione potrebbe essere praticabile. Io non la vedo, non la vede neanche Mattarella, per cui non posso dare del coglione a Mattarella, perché la pensa come me. Sì, sì, io non voglio che tu dia dei coglioni a nessuno. Volevo sapere, questo povero paese di coglioni che fine fa? Si voti a luglio, si voti a settembre, si voti a dicembre, che fine facciamo? Se votiamo a luglio succede una cosa molto semplice, che il risultato che avremmo nelle urne sarebbe esattamente la fotocopia del risultato ottenuto il 5 marzo scorso, quindi si perpetuerebbe la possibilità della paralisi in cui accennavo prima, perché è chiaro che se oggi non riusciamo a fare niente, fra 6 mesi con lo stesso risultato elettorale o presso a poco, ancora non saremmo in grado di darci un governo politico minimamente duraturo, quindi c'è poco da recriminare e da discutere. Il voto degli italiani è pessimo, non è colpa degli italiani, mi dirai tu, certo che non è colpa, ma è responsabilità degli italiani che votano in un certo modo, Mattarella che sta al Quirinale, se non ci sono delle forze politiche capaci di andare d'accordo e di costituire una maggioranza, che cacchio c'entra il Presidente della Repubblica, niente. Va bene, va bene. Senti, parliamo della condanna in appello a 4 anni e 7 mesi, 2 anni e 10 mesi rispettivamente per Fede Eminetti. Tu ne hai parlato sul Libero dicendo che cosa? Intanto devo premettere che in un paese che sta andando a puttane, però poi nessun cittadino può andare a puttane senza essere perseguito penalmente. Io non so se Berlusconi pagasse o non pagasse, penso di sì perché a Berlusconi manca tutto meno che il grano, che il denaro, ma che fosse Fede a procurargli le mignote e la Minetti, mi sembra veramente un azzardo sostenere questa tesi. Probabilmente non hanno ostacolato gli ingressi ad alcol e delle zoccole, non credo che avessero neanche il potere per farlo, ma da qui a condannarli per favoreggiamento della prostituzione e induzione alla prostituzione mi sembra un'esagerazione, anche perché, voglio dire, se uno vuole prostituirsi lo fa volontariamente in cambio di denaro, quindi non capisco chi possa avere spinto queste ragazze vittime di Fede e della Minetti a darla via se non avevano voglia di darla via, questo è il mio ragionamento molto semplice. Mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che i maligni fossero Fede e la Minetti, a questo mi lascia perplesso, non credo che si possa condannare delle persone a 4 anni e 7 mesi di galera e a 2 anni e 10 mesi, se ricordo bene i termini della condanna, soltanto perché erano a conoscenza di un traffico di ragazze che andava ad Arcore a fare le cosiddette feste eleganti, che poi tanto eleganti magari non erano, ma in ogni caso non vedo un reato in una serie di scopate fatte dal Presidente e magari agevolate, ma non promosse da Fede e dalla Minetti, spero di essere stato chiaro. No, no, è chiarissimo, è chiarissimo. Che idea ti sei fatto della storia di Fico, della Colfinnero, nero, poi c'era anche forse un rumeno se non ho sbagliato, o comunque un ucraino, chiedo scusa, un ucraino irregolare, che idea ti sei fatto di questo Fico, poi inseguito da quelli della trasmissione televisiva Le Iene mentre sfrecciava in Auto Blu, perché la stagione dell'autobus, che abbiamo commentato peraltro altre volte, è già finita. Una tua impressione. è finita. La mia impressione è che Fico, che è un Fico secco, visti i risultati della sua attività, non abbia raccontata giusta, perché mi pare impossibile che in casa sua girassero due domestici pagati a nero a sua insaputa, perché mi sembra scaiola della prima maniera, ma io non lo sapevo. Peccato, tu invece quello che accade in casa tua devi conoscerlo perfettamente, altrimenti come fai poi a governare e a occuparti del paese se non sai neanche quello che succede in casa tua? Credo che questo signore avrebbe fatto meglio a dimettersi, ma mi capisci che per un signore come Fico, che non ha mai fatto grandi cose nella vita, avere il posto di Presidente della Camera significa aver vinto al superenalotto, quindi quel posto lo difende con i denti e se ne frega di aver commesso una scorrettezza come quella di non pagare i contributi dei domestici, perché non si tratta di una vecchietta di 70 anni in pensione che magari non voleva essere inquadrata sindacalmente, altrimenti avrebbe perso la pensione, in questo caso sarebbe una storia diversa, no, qui siamo di fronte a una signora giovane che lavora in nero nella casa di Fico e della sua convivente moglie, non so perché ormai poi non si sa più cosa succede nelle case e poi c'era anche un altro domestico non pagato regolarmente e significa che qui si sono commesse delle scorrettezze enormi che non possono passare inosservate e per le quali il signor Fico Secco dovrebbe rispondere, invece mi sembra che lui oltretutto si limiti a fare delle querelle non si capisce in base a che cosa, perché raccontare la realtà non è mica diffamazione, è semplicemente cronaca. Gran parte degli italiani c'è da dire si avvalgono della collaborazione di personale magari pagato così a nero, il problema di Fico è che è la terza carica dello Stato ed è uno dei leader di un partito che era contro tutte le irregolarità, è questo che fa diventare questo caso un vero e proprio caso. Un aggravante, sì è un aggravante, credo che ce ne siano molti in Italia che non pagano regolarmente i domestici, specialmente i progressisti, quelli che vogliono far venire in Italia tanti profughi, tanti stranieri così poi li sfruttano pagandoli poco, questo è un altro discorso, mi sembra che poi il Movimento 5 Stelle abbia fatto del moralismo la propria bandiera e quindi Fico dovrebbe essere un moralista non soltanto nominale, ma anche di fatto e invece noi abbiamo scoperto che le cose non stanno così, quindi sarà bene che egli chiarisca la sua posizione e provveda a regolarizzarla e in ogni caso rimarrà la brutta figura di aver sgarrato, perché questo è uno sgarro e dovrebbe anche dare qualche spiegazione invece di brontolare, perché se io commetto una scorrettezza mi devo solo scusare, non querelare, chi cacchio querelo? È un posto sfigato ultimamente, sfigato si fa per dire perché poi stanno benissimo, è un posto sfigato ultimamente quello di Presidente della Camera, sembra che deve essere un posto che attrae un po' di odio, un po' di polemiche. Vabbè certo, chi sta in alto è più osservato di chi sta in basso e quindi deve subire un'attenzione anche morbosa da parte degli italiani, del pubblico, a maggior ragione chi sta in alto però deve stare attento a non commettere delle puttanate, in questo caso le puttanate sono state commesse e quindi c'è poco da nascondersi dietro a un dito, bisogna avere il coraggio di dire la verità, di scusarsi e di provvedere a sistemare le cose, non mi sembra che Fico Secco sia intenzionato a fare tutto ciò. Ecco, allora dici Fico Secco perché non è querelabile Fico Secco, anzi è divertente e non querelabile. Fico Secco è secco, lui è anche magro, Fico Secco non è offensivo. Ci mancherebbe. Senti, ultimamente secondo me Beppe Grillo torna a starti simpatico perché parla nuovamente di referendum sull'Euro, la tua vecchia battaglia. Io condivido questa cosa, sì sì io sono d'accordo nel sostenere che l'Euro è un danno per gli italiani e per il Paese, se Grillo si mette in testa, non è la prima volta che dice che è necessario un referendum per abolire la moneta unica, però se stavolta fa sul serio anziché dire delle battute che poi restano lettera morta, io non posso che essere contento. peccato che il suo Di Maio, il pistolino partenopeo invece non abbia mai accennato a questa ipotesi. Allora c'è una discrepanza tra quello che dice il guru che è poi Grillo e quello che dice l'esecutore testamentario del medesimo guru. Sì, poi sono le due anime del Movimento 5 Stelle, ora emerge una, ora emerge l'altra. A proposito hai visto che se si va a votare… Sì, sono le anime dell'immortarci loro. Hai visto che se si va a votare salta anche per loro il vincolo dei due mandati, cioè si possono candidare anche per più di due volte. A me di questa cosa non me ne frega un cacchio, perché è da almeno 30 anni che sento dire che i parlamentari non potrebbero avere più di due mandati, ma questa disposizione non è mai entrata in vigore, perché la gente quando mette le chiappe sulle poltrone del Parlamento è contenta, ma non è affatto contenta di sollevarle e di tornare a casa a lavorare, anche perché per esempio Di Maio non ha mai lavorato in vita sua, quindi che voglia voi che abbia di rinunciare a una indennità che supera i 15 mila Euro al mese, cioè una retribuzione che in qualsiasi altra professione il suddetto pistolino non sarebbe mai riuscito a guadagnare. Come lui ce ne sono tanti, non solo nel Movimento 5 Stelle, intendiamoci anche in altri partiti, quindi anche quando Mattarella dice che vuole varare un governo del tavolo come quello che avremo, cioè un governo tecnico, sa benissimo che gran parte dei parlamentari concederanno a questo tentativo una grande fiducia, ma non perché abbiano fiducia politica nei confronti dei tecnici e del tecnico che guiderà l'esecutivo, semplicemente perché vogliono rimanere nel palazzo, goderne i privilegi e quindi saranno disposti ad accettare qualsiasi nefandezza dovesse il nuovo governo commettere, compresa quella di aumentare l'IVA che sarebbe una catastrofe per il nostro commercio. Sì perché poi questo aumento dell'IVA, quanto va al 24? Non mi ricordo, comunque mi sembra Sì 24, 25, insomma cifre assurde. Tre punti e passa che poi pesano sulla borsa della spesa di tutti noi, hai detto pistolino prima, neanche pistolino non è querelabile, lo diciamo così non perdono tempo. No ma pistolino significa ragazzino, dai lo sappiamo, non è che c'è bisogno di giustificarsi, cioè un ragazzino è pistolino. No era per parlare del prossimo tema perché in un asilo, non mi ricordo più dove, salta la festa della mamma, che sarebbe il 13 maggio. Sì sì, a me dalla festa della mamma non importa niente, tutte queste feste della mamma, del nonno, del papà e ce ne sono almeno 20 all'anno, a me sinceramente tutta questa roba mi disgusta, quindi non riesco a partecipare con dolore alla soppressione della festa della mamma, ma chi se ne frega, facciamo la festa del cuculo, mi sembra tutte sciocchezze, ma chi se ne frega. No però salta la festa della mamma perché c'è un bambino con due papà. Ma sì, ma ne avevi due papà, tre mamme, io ho avuto solo una mamma, non avevo il papà perché ha avuto la cattiva idea di morire a 43 anni e me la sono cavata lo stesso senza fare tanti pianistei, quindi avere due mamme, tre papà o niente, anzi beati gli orfani che non hanno la rottura di coglioni di avere dei genitori che li opprimono. Sì, no, ma non banalizzare, hai capito il tema, cosa ne pensi? No, non banalizzo, mi sembra che avere due mamme o due papà, ma a noi che ce ne frega, fate la festa del nonno, del bisnonno, fate la festa dei papà, ma dov'è il problema? Sarà mica il problema italiano o non saranno mica le feste? Ce ne sono talmente tante in Italia di feste che ogni due giorni c'è una festa, anche se ne sopprimiamo una, pazienza, ce ne faremo una ragione. Vabbè, qua abbian dato materiale a crozza, non vuoi entrare nel tema dei due papà? Ma sì, a me che mi frega se uno ha due papà, scusa, adesso sono affari loro, se si consente a una copia di gay maschi, di adottare un bambino, è ovvio che poi quel bambino abbia due papà, forse non si doveva concedere questa opportunità, ma anche se è stata concessa, non capisco dove sorge il problema. Sorge il problema. Questo bambino, vedremo come crescerà con… No, però sorge il problema nel momento in cui non si festeggia più la mamma. Ma a me che mi frega se non si festeggia più la mamma? Io la mia mamma non l'ho mai festeggiata, è arrivata lo stesso a 90 anni e io non ho mai avuto una sofferenza mostruosa perché non festeggiavo la mamma. Quando arrivavo a casa la sera dopo il lavoro, la abbracciavo, ero contento di vedere la mia mamma e non avevo bisogno una volta all'anno di allestire una festa ipocrita e totalmente inutile che ha solo una finalità commerciale come la festa di San Valentino, d'altra parte. E questa la riprendo da Crozza. Ecco, senti una roba. Il proposito di… Sì, perché no, io vorrei dirti una cosa. Scusa, scusa, scusa Roberto, perché non è vero che Crozza imita me, sono io che imito Crozza. Cioè spiegati meglio perché questa non l'ho capita. Sì, allora si dice Crozza imita Feltri, in realtà io guardando Crozza mi sono convinto che ha ragione, che dice delle cose meglio di come le dica io, per cui adesso io imito Crozza. Perfetto. È difficile, è un concetto difficile. No, sono riuscito a capirlo pure io. Va bene. Senti, a proposito… Allora siamo a posto. Ecco, no, non ancora, abbiamo ancora qualche minuto. Invece di longevità, no? Parlavamo di longevità prima. Il buon Alfano, che in questo momento, mentre tu e io parliamo, è ancora il ministro degli esteri, ha battuto ogni record, quello di longevità, cioè è ministro da una vita, è stato il più giovane ministro in Italia ed è ministro da una vita. Sì, è durato di più di tutti e questo merita un nostro applauso, perché uno che riesce a non fare un cazzo per quasi 20 anni e ad avere il ruolo di ministro, secondo me va guardato con estrema ammirazione. A me non è mai capitata una situazione così favorevole, ma credo che neanche a te. Quindi uno che ha fatto il ministro di Grazia e Giustizia, che ha fatto il vice di Berlusconi, anzi il segretario di Forza Italia, poi ha fatto il ministro dell'interno a lungo e poi ha fatto il ministro degli esteri e va applaudito. Io non trovo niente di strano e probabilmente aveva ragione lui a fare quello che ha fatto. I risultati gli danno, sono dalla sua parte. Senti, a proposito di gente che campa a lungo e che ama a lungo, l'ex sindaco sceriffo di Treviso Gentilini, che ha da poco perso sua moglie e ha 89 anni adesso, oltre a continuare a fare politica, dice mi risposo a 89 anni e non riesco a vivere da solo. Come dargli torto? No, non lo so, perché poi ognuno ha i suoi gusti, quindi lui non ce la fa a vivere da solo e poi si è innamorato di una signora settantenne, mi pare, pur avendone lui 89, ha pensato bene di unirsi in matrimonio. Nulla da ridire, ognuno fa quello che vuole. Certo è che di solito un uomo quando finalmente riesce a essere vedovo e a non avere la rottura di balle da avere in casa la moglie, se ne guarda bene da risposarsi teoricamente, invece vedo che quasi tutti tendono a ricostruire una prigione per se stessi identica alla quale si erano fortuitamente liberati, un po' come quelli che si separano dalla moglie, che finalmente sono da soli, dovrebbero stare bene, invece dopo un anno si rimettono con un'altra donna e costruiscono una situazione uguale a quella da cui sono fuggiti disperatamente e questo mi suscita in me molte perplessità e anche una certa curiosità. Sì, la cosa che incuriosisce è che se la sia presa, oddio, adesso scherziamo, ma che se la sia presa di 70 anni, poteva prenderla 50 anni in meno di 70, cioè di 20 ci stava. No, vabbè, ma 70 anni adesso non mi rompe le balle perché io ne ho 75, se mi dici che una di 70 è da buttare nel cesso mi offendo. Ho capito, allora scusami, tu stai passeggiando per la tua amata Bergamo lì per strada, c'è il primo sole, le donne si cominciano a scoprire, si vede la coscia, si vede il seno prorompente quando c'è perché ce n'è poco in giro ultimamente, ma insomma tu vedi passare una di 70 anni mezza scoperta e una di 20 mezza scoperta. Quali guardi? Guarda, io ti devo dire la verità che a me le donne piacciono ancora. Quali guardi delle due? Però non mi ricordo perché. Quali guardi delle due? La settantenne o la ventenne? Tutte e due, guardo tutte e due e una la scarto, ma non ti dico quale perché se non ci arrivi da solo vuol dire che sei un pirla. Fantastico, parliamo d'altro. Tu hai spiegato sul tuo giornale in prima pagina nei giorni scorsi come dare l'eredità al nostro cane, ma perché dovremmo dare l'eredità al cane o al gatto? Perché? Chi cacchio la vuoi lasciare l'eredità ai tuoi figli, ai nipoti, quando ormai sono grandi che escono di casa, diventano degli estranei che hanno diritto d'accesso al tuo frigorifero, la qualcosa ti fa anche leggermente incazzare. Per cui un uomo normale o una donna normale pensa di lasciare le proprie sostanze guadagnate anche con fatica o comunque con impegno a non solo ai figli che non meritano di solito niente o meritano poco, ma al cane, il cane invece che è fedele per definizione e il gatto che è una specie di re della casa, io personalmente farò più o meno la stessa cosa e sto studiando la pratica per lasciare molto del poco che ho proprio ai miei gatti, al cane, ai cavalli e a tutte le bestie che girano in casa mia, compresa mia moglie. Questa proprio, però allora vuoi rompere i coglioni pure da morto, quando sarà fra duemila anni? Certo! Vuoi che ci si occupi di te? Ma scusa, ma con i miei soldi potrò fare quello che voglio o devo dipendere dalle esigenze dei miei figli? Si facciano la loro vita, a loro ho dato tutto quello che ho potuto, non proprio tutto, tutto quello di cui avevano bisogno, si sono ormai lanciati nella vita e spetta a loro crescere e diventare quello che pensano e sperano di diventare, che cosa c'entro io? Devo anche finanziare i loro sogni, non credo di avere questo obbligo, il mio obbligo era quello di crescerli, di educarli e di avviarli alla vita e di consegnare loro anche i mezzi per poter partire in modo agevolato, questo io l'ho fatto, non capisco perché debba anche finanziare le loro ambizioni che non sono in grado da soli di realizzare. Scusa ma il gatto e il cavallo che cavolo se ne fanno di tutte quelle sostanze, poche o tante che siano, che se ne fanno? No, intanto io voglio assicurare un'esistenza normale, un'esistenza il più possibile felice ai miei animali che sono tanti e non capisco perché qualcuno mi debba rompere i coglioni perché lo faccio. Ma insomma, no, scusa, con tutti i negretti che ci sono che hanno bisogno. Ma io non conosco negretti, probabilmente se avessi tra le balle dei negretti provvederei anche a loro, ma siccome i negretti non li ho, preferisco provvedere ai miei gatti, al cane, ai cavalli, anche all'asina perché io ho anche un'asina che deve stare bene fino alla fine dei suoi giorni. Come si chiama l'asina? Agata. Agata. Quindi mi potrei mettere con Agata e poi beneficio anch'io del tutto. Se la sposi mi tocca lasciare il 50% anche a te e spero che tu ti astenga. Va bene. Allora, c'è un attimo di pubblicità perché stiamo andando oltre, c'è un attimo di pubblicità e poi torniamo con Vittorio Feltri. Vabbè, Agata l'abbiamo archiviata. Quanti anni ha questa? Come mai uno prende un'asina? Scusa, no? Spiegami. Ah, te lo spiego rapidamente. Perché c'era una festa, molti anni fa, una festa dell'unità, dove doveva essere sacrificata un'asinella per fare lo stufato appunto d'asina. Siccome la notizia comparve sui giornali e anche sulle agenzie, io mobilitai la mia segreteria che rintracciò quella festa dell'unità, parlò con il responsabile e io gli proposi di acquistare la suddetta asina e la comprai a un prezzo superiore al valore della stessa, e però me la portai a casa e visse felice e contenta, tant'è che quando io la vado a trovare faccio un fischio e lei arriva velocemente e struscia il suo muso fra le mie gambe e mi fa delle feste incredibili come fanno i cani, quindi vuol dire che gli asini sono normalmente, mediamente più intelligenti dei miei simili, compreso il sottoscritto naturalmente. No, no, ma questo è vero, questo è vero. Ascoltami, Gentiloni, domenica mi sembra che abbia detto che abbiamo bisogno di più immigrati, cioè insistono a battere la testa, Gentiloni premier uscente del Partito Democratico, cioè insistono a battere la testa sul tema che gli ha fatto perdere le elezioni, quello degli immigrati. Partito Democratico si è ridotto ai minimi termini proprio perché pratica una politica così assurda, il povero Gentiloni che fra l'altro è stato un estremista di sinistra, era un extra parlamentare, cioè uno che credeva nel comunismo e in queste cretinate e oggi non è riuscito ancora a liberarsi da tutti i pregiudizi ideologici del passato e continua a dire delle biscarate. Quella che ha detto a proposito degli immigrati, cioè che noi avremmo un bisogno estremo di incrementarne l'arrivo, è una tale idiozia che non merita neanche di essere commentata, è la dimostrazione plastica che per andare a Palazzo Chigi ci vuole una certa dose di incoscienza e anche di incapacità a considerare la realtà. Il povero Gentiloni andrebbe eliminato non solo da Palazzo Chigi ma dal Parlamento e da tutte le istituzioni compresi i comuni inferiori ai 2000 abitanti. Napolitano è fuori pericolo, l'ex Presidente, si è scatenata una brutta cosa d'odio in giro per il web, sui social, che dire? Orribile, questa è una cosa orribile, io non ho nulla di personale contro Napolitano anche se non ne ho apprezzato la politica fin dai tempi in cui era iscritto al Partito Fascista, poi è passato al Partito Comunista, la sua vita politica per me è tutta da criticale, però da lì è davvero un odio personale, se ne corre, io non ho nulla contro di lui, gli ho augurato pubblicamente di rimettersi in fretta, mi auguro davvero che si rimetta, io credo che questo uomo meriti comunque di essere considerato per quello che è, cioè un'autorità politica che sia comportata bene o male, questo lo giudica ciascuno di noi, però augurargli la morte, insultarlo nel momento in cui è indifeso in un'ospedale e rischia di perdere la vita, mi sembra un atteggiamento deplorevole, un atteggiamento che suscita in tutti noi persone normali disgusto e soltanto disgusto. L'Inps, parliamo dell'Inps che ha già un esercito di 30 mila dipendenti e un rosso che arriva a 6,3-6,5 miliardi, bene, assume mille persone. Ma il vero problema dell'Inps è che non deve assumere mille persone ma licenziarne una e che è poi il presidente del quale in questo momento mi sfugge anche il nome talmente popolare. Boeri, 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 lui se lo ricorda i cioccolatini della mia infanzia, i Boeri erano dei cioccolatini. Ho capito che erano dei cioccolatini, però ricordati che i Boeri quando li aprivi ci trovavi qualcosa dentro, o un altro Boero o un premio lo trovavi, se apri questo che peraltro si ricorda bene il tuo nome… Ma quei Boeri erano buoni, invece questo Boeri ha condotto, questo Boeri che non è buono ha portato la previdenza sociale sull'astrico e non è però soltanto colpa di Boeri, la colpa è degli esecutivi che si sono succeduti nei decenni alla guida del Paese, del Parlamento che è costituito da gente ignorante che non sa come funziona l'Inps e non sa che l'Inps sarebbe addirittura inutile se fosse destinata a occuparsi di ciò per cui è nata, ossia il pagamento delle pensioni a chi ha pagato dei contributi per una vita e non solo anche per soddisfare i datori di lavoro che hanno contribuito notevolmente ad accantonare del denaro, invece tutto il denaro dell'Inps viene speso per delle cose che non c'entrano niente con le finalità che hanno consentito la nascita, che hanno dato luogo alla nascita di questo ente previdenziale, dovrebbe pagare solo le pensioni agli ex lavoratori, invece dà soldi a tutti, anche alle donne incinte che hanno l'utero debole, dà soldi per la cassa integrazione, dà soldi per i bonus, dà soldi a cani e a porci e questo ha comportato un deficit mostruoso della previdenza che adesso non è neanche in grado di soddisfare le esigenze in base alle quali è nata la previdenza stessa, è una cosa vergognosa. Vittorio, licenziati 20.000 maestri è un titolo che hai usato l'altro giorno perché si pretende che gli insegnanti elementari abbiano una laurea, è un titolo forzato o è una realtà triste che ci sta attendendo? Beh è una realtà triste perché tu mandi via 20.000 maestri diplomati alle magistrali e che hanno magari sostenuto un concorso e ottenuto l'abilitazione, li mandi via perché non hanno una laurea, ma scusa il tuo maestro o la tua maestra era laureato? No, mio maestro non era laureato, mi ha insegnato a stare al mondo, io ho sempre conosciuto tanti maestri in casa, la casa mia, la mia famiglia è piena di maestri che hanno fatto questo lavoro senza avere una laurea, ma chi se ne frega della laurea? Come mai annettere tanta importanza a una laurea in pedagogia per insegnare a leggere e a scrivere? Io qui sono pieno di gente che è laureata in pedagogia e considera la sintassi un pregiudizio borghese, mentre tanti maestri la sintassi la sanno bene e la sanno insegnare, quindi licenziare gente che ha fatto bene il suo lavoro, ma licenziare soltanto perché non ha la laurea è una discriminazione insopportabile e io licenzierei il ministro e tutti i ministri e anche i parlamentari che hanno consentito questa schifezza. Che pensi dei tornelli che hanno messo a Venezia per limitare in qualche modo o comunque controllare chi accede alla città? Sei favorevole o contrario e li metteresti anche da qualche altra parte? Se si può dire qual è la parte dove li metteresti? Guarda, io i tornelli li metterrei anche a casa mia così evitano di venire a rompermi le balle e quindi non vedo perché non metterli a Venezia. Venezia effettivamente è un luogo meraviglioso che viene assaltato da centinaia di migliaia di persone e invece c'è la necessità di disciplinare gli ingressi. Se i tornelli non sono il mezzo migliore possiamo discutere, però non prendere nessun provvedimento per rendere meno caotiche le visite a Venezia mi sembra una sciocchezza. Ecco, poi i tornelli bisognerebbe metterli all'ingresso nel nostro paese visto che continuiamo a tirarci dentro gente, ormai non finiscono nei Tg, continuiamo a tirar dentro gente che non sappiamo chi sia, diciamolo. Quindi il tornello è un principio che andrebbe... Bravissimo, e mettiamo i tornelli... bravo, sono contento di quello che tu dici perché i tornelli bisognerebbe metterli per disciplinare gli ingressi nel nostro paese che invece continuano a essere incontrollati, eccessivi e massicci. Diciamo che abbiamo porte girevoli al posto dei tornelli e al posto del governo non abbiamo nessuno ma tant'è. Ma questo è un vantaggio, non avere un governo potrebbe anche essere molto positivo. vorrei ricordare a tutti che l'Olanda, il Belgio, la Spagna e la stessa Germania sono stati a lungo senza governo e ne hanno tratto grandi vantaggi perché per andare a governare bisogna avere una dote di incoscienza e di stupidità che non tutti hanno. Vittorio, dieci secondi che mando la pubblicità e poi ci rivediamo per i saluti perché mi sa che l'ora è quella che ti devo lasciare andare alle tue cose. A tra poco. Vittorio, ti vedevo inquadrato durante la pubblicità e ho letto il labiale, che palle non finisce più, quindi la facciamo finire. Facciamo dei saluti per bene e la facciamo finire. No ma lo so, anch'io sono così, eh. Cioè io adoro questo modo di essere. Ma siamo uguali, dai. No, che diciamo per mandare tutti a quel paese o a letto? Una frase e ti mollo. Eh, non so io. Sì, ma tu sei bravissimo, sai come fare. Va bene, allora noi fra sette giorni saremo ancora qui a rompervi i coglioni. Grazie al direttore, va bene così, no? Sì, può stare. Grazie al direttore Vittorio Feltri. Sì, ottimo. Perfetto. Gli piace, quando uso dei termini che si capiscono, gli piace, senza troppi convenevoli. Lo mando a letto, mando a letto tutti voi. Buonanotte e alla prossima. Grazie Vittorio. Buonanotte a tutti voi, grazie.